Margie, ciao Margie Grande Margie Ma eccoci qua, game 1 Oh yes, e ovviamente sono al contrario Quindi adesso li devo swappare Eccoci qua Ecco, a posto Bene bene, allora Match estremamente più veloce rispetto a quello di prima Abbiamo I due personaggi più Con la cazzimma possiamo dire Esatto Sì vediamo Fox Top tier Fortissimo, Falco comunque Se la gioca bene Anzi Detta così sembra che Falco sia il merdina Ah beh perché io ho un bias Verso Falco Non mi piace giocare contro Falco Quando gioco contro Saul Tipo in mezzo 6.000 laser in mezzo agli occhi E tipo appoggio il controllo con Saul Basta non ce la faccio più Poi io volevo giocare a un picchiaduro Non ho lasciato i map Esatto Vediamo comunque Simmax carico Ma stop smash Malandrino È stato molto particolare Bravo Simmax Comunque se ne tira fuori Oh Bella lettura E bravo Bravissimo Nooo Mamma mia È andata così Eh vabbè Però bravissimo Si Max Comunque ha fatto Benissimo lì Ha fatto molto bene Quel bear Se no sarebbe 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 atterrato su Randall Esatto Esatto Ha coperto Randall Esatto Oh attenzione brutta situa Ah peccato Bravo Un po' tardi Sarebbe stata una bella rida Altrimenti E' vero Ma è stato bravo Si mazza ad aspettare lì Non si è mosso Vabbè Ma lo aspetto Non ha ucciso Mamma mia Ma è proprio al limite L'aera Un per cento Un per cento in più Esatto E si portava a casa la stock Ok cerca l'angolo Buono il ledge dash Quella combo Bravissimo Bravissimo Oh non di nuovo No Oh no Non così Non così Accidenti Peccato Vabbè Ma comunque è bravo Aion a prendere questi stock Assolutamente Assolutamente Ne approfitta E fa benissimo Però si fa Questo bear Quasi inaspettato Anche perché La di non era Delle Forse migliori Quindi si max tranquillamente Nonostante i due SD Sembra Se la possa portare a casa Con Yes Sì poi Come dicevamo In questo matchup Veramente Il momentum Swing Di continuo Quindi Non è mai detta L'ultima parola È vero Assolutamente Anche perché Comunque È un match velocissimo E i giocatori Devono essere sempre Bello Attenti Infatti Bravissimo Aion qua Piazza un bear E Lo stage è molto stretto Come hai visto Quindi basta Veramente poco Entrambi hanno Un buon bear Il soffitto è basso Quindi per Aion È relativamente facile Con un apero Con un up smash Portarsi a casa La stock E in questo caso Il match Uuuu Accidenti Accidenti Peccato Ai 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 Peccato per Aion Però bravo Simmax Ha giocato molto bene Trovo A parte quei Quei due errori Che gli sono costati Due stock Però Comunque è andato È andato alla grande Ha praticamente avuto Di upper hand Se vogliamo dirlo In inglese Per tutto il match Sì esatto È un po' giusto Che sia finita così Mettiamola In questo modo Se vogliamo dirla Insomma Ha perso comunque Due stock Veramente in modi Cioè cercando di fare La cosa giusta Ma sbagliando proprio Di quel millimetro Che basta Per perdere gli stock Anche qua Vediamo un po' La dualità Di Fox e Falco Dove Falco Estremamente nerfato In quella che è La recovery E quindi Ste cose succedono Con questo personaggio Esatto Più Infatti Come dici giustamente La recovery di Falco È più corta Rispetto a quella di Fox E quindi Infatti Aion per esempio L'ha portato qua Su Dreamland Dove gli spazi Sono più ampi Come dicevamo prima I bordi Sono estremamente Lontani Diciamo I bordi alla stage Sì Fox riesce a tornare Con più calma Rispetto a Falco Perché ha questa recovery Più lunga Che gli permette Di tornare anche Alte percentuali Però Diciamo che Si autonerfa Se vuoi Perché Il soffitto è alto Quindi la per Impiega un po' Di più ad uccidere Quindi per le percentuali Un pochino più elevate Certo Certo Come dice Margie giustamente In chat La voglia di scliccare È troppo alta Esatto Giusto così Esatto Ma diciamo Che se non altro Falco Essendo la stage Molto ampia Può sfruttare meglio Gli approcci con i laser E dare fastidio Ok E giocarsela meglio Infatti Qua con un Bayer Riesce a coprire Il ritorno di Ion E Porta a casa Il primo stock Di questo Match Uh Classico Bella DI Di Simmax Peccato che non l'ha Non è riuscito a salvarlo Peccato sia contro Fox Esatto Ormai È così Ok presa Shine Back Air Ottimo di danni Continua la pressione Ma Ion Sbraccia con questa Pair Che rompe il momentum Di nuovo Un up smash Dash dance Molto bello Bravissimo Esatto Sta continuando Questo punish Che però Adesso si interrompe Max forse cambia il momentum Ha provato una read Incredibile Sì Sudata Attenzione Buona la risposta Del shiny note of shield Qua Peccato Peccato Se facevamo Forward smash Nella direzione corretta Però ha provato il down smash Perché copre Sì 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 La piattaforma è piccola Quindi la rotolata non è che può andare chissà Chissà dove Se avessi fatto tech in place L'avrebbe L'avrebbe coperto Buono intanto il tech A terra Esatto Esatto Ottima scelta Quasi No non riesce a leggere l'animazione Purtroppo Estremamente lenta Quando fai get up roll Sì A oltre il 100% Esatto Intanto Un buon gioco di Fuzzis in questo momento Da parte di Iron Assolutamente Sta veramente facendo Avanti indietro Ubriacandosi max Non sta capendo niente Ma riesce a vedere Questa cosa invisibile Porta a casa il secondo stock Esatto Esatto Si max Una percentuale relativamente alta E' pericolosa Con fox Questa percentuale Vediamo se riesce ad accumulare Qualcosina su Su iron Prima di Perderla stock Invece Iron Con una solida stock Di vantaggio Molto 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 bene Questo giro ha giocato Giocato bene Forse si max Un po' Striccato bella Read Ok Continua Oh Attenzione Non è ancora finito Oh Ah peccato Peccato Grazie a uscirne Però wow Spicy Il max lì Mamma mia Croccante Molto bene Ci piace Siamo all'inizio Della top pot Stiamo già vedendo Delle belle cose Super carichi Ah attenzione Potrebbe finire No non esce fuori Bravo Bravo E' ancora vivo Della smash E' ancora vivo Dreamlander E' qua Di assurda Bellissima Bravo E' qua il back air Però se lo piglia Il back air chiude E' questo momento In chat Voglio leggere soltanto E' fisio E' fisio In chat Tutti è fisio Ragazzi E' fisio Bene bene Uno a uno Siamo molto molto combattuti Per ora Ci sta Ci sta Ci piace Ci piace Siamo carichi Sono carichi Loro un botto Sono tantissimo carichi Mamma mia Super Super sul pezzo Si max forse ha perso Un po' mordente Nel secondo match Forse un po' Sai La mente Così non riesci Magari a essere Su pezzo Sempre Ma in verità Sim vuole Vuole giocare 5 game Sim lo sappiamo Ormai come va Esatto Dice vabbè Facciamoci questi 5 game Ok E' un accidente Ha preso Tac 78% Così In un attimo Ok Carico Cerca di sbracciare un po' Con questo effettito Oddio Che paura Mamma mia Buona la combo Continua Sbacare Continua la pressione Di sim max Cerca di resettare un attimo Di nuovo Puzzi Da parte di iron Dash back Dash avanti Dash attack Carico E qua Porta a casa So con un Neutral air Così Uscito Quasi dal nulla Yes Punito sim max Ok Vediamo se riesce Ora vuole rallentare un attimo Dice Spariamo un po' Di laser Sta andando troppo veloce sto game Cerchiamo di rallentare Respiriamo Un po' di aria Oh no Ecco Non così tanto Si max respira Non fa arma da shine Non fa nulla Mamma mia Ho sudato Però è ancora in sullo stadio Quindi va bene Ok Jab F smash Confirm del 2022 Per fox Esatto Dash attack Classico Il prossimo dash attack Potrebbe essere morte Peccato di poter Una bella read Ariuto Sta cercando ovviamente La kill confirm Aion Ma sta facendo un po' Di tunnel vision Perché Qua sta perdendo Un sacco di Di opzioni Eccolo lì Eccolo lì Il down air Bravo Mancava un down air Eh sì Falco Cioè se non lo fa lui Esatto Esatto La trivella Molto bene Tranquillo Fisio Up smash Pulito Il soffitto un pochino più basso Rispetto a dreamland Quindi Esatto Quella percentuale funziona Ok Pulito pulito Quasi Un up smash Bravo Molto Tropicale Ok Bravo Bravo Simax Con il momentum Incredibile È finita No Prossimax però Aiuto Mamma mia Ho sudato Ho sudato Simax ha fatto la cosa Bellissima E poi la cosa Bruttissima Incredibile Simax ha fatto 2-0 To death Una di fila All'altra Mamma mia Sto sudando Sto sudando Ok Ok Up smash Che manda al contrario Esatto Ottimo No peccato Non riesce a fare Wave dash bene Ma non importa Per ancora Peccato Potrebbe essere Un bel setup Quello Per simax Sono lì Le percentuali Ci siamo Sono tornata una situazione Più o meno di parità Molto bene Andiamo avanti Così ragazzi Buonissimo Ed ecco qua Secondo hit Proprio pulito Un trade Sfortunato Per simax Sì Tanto ha compito Direttamente Col secondo Quindi zero possibilità Di smash di eye Esattamente Ok Si prosegue Intanto Buono Buono Dire di nuovo Oh mio dio È fuori stage Ok riesce a rientrare subito Attenzione Oh bello 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 Quell'arte Bravissimo Ecco qua Il drillino Che ci piace Oh yes Oh no È finita Quasi Sudato E mi sa che Non buono Riesce a saltare proprio al pelo Accidenti Una brutta situazione Bravo Eh bravo Bravo E fisio Ha coperto bene La recovery In questo caso E Si è portato a caso Il match Quindi 2 a 1 Per fisio Vediamo un carico Si max Un sacco di belle cose Un po' Spaghetti ogni tanto Però Ci sta È tipo Si max in questo momento Sta giocando a Chess Ok E praticamente C'è il momento Dove c'è la barra nera piena E poi con una sola mossa Diventa tutta bianca Del vantaggio Poi ritorna a pari E dice va bene Ok E finalmente Vediamo Pokemon Stadium Schinnata anche questa Il posto per il torneo Ragazzi Guardate che È bello sto stage Spettacolo Mamma mia Ah veramente Questa cosa qua È spettacolare Incredibile Veramente Dopo questo match Ci mettiamo un attimo A ringraziare tutti Perché è giusto così Esatto Ok Bell Neutral Insomma Stiamo già partendo Belli tosti Sì sì Oddio Bellissimo Accidenti Sto shine per girarsi Back here Mamma mia Bravissimo Wow E fisio Spettacolare Si max è partito Benissimo Mega carica Tu no Basta 2 a 1 Sti cazzo Oh no No Not like this No Oh attenzione L'homistock Quasi un homistock Esatto Praticamente Wow Accidenti Va bene Va bene ci piace Ci piace anche questo Ok Cavolo Emozioni forti Sì In questo match Emozioni forti Sì giusto Cioè citando proprio Margin chat Che diceva Continua così Mi dà un infarto Esatto È un coccolone Assolutamente Mamma mia Ok si posiziona Perde il bordo però Dash attack Aveva la read Ma l'ha fatta Troppo presta Eh esatto Aiuto Schiva Get up attack Si max Un momentum Incredibile Cerca di non perderlo E invece lo shine Spezza tutto Potrebbe fare la porcata Non la tenta E invece Oh no Oh no Dash attack Dash attack Dash attack Carico Bello sto nair Bell nair Peccato È stata ancora più bella Questa get up roll Di Ephysio Che ha proprio invertito Tutto Molto bene Molto bene È qua Bekir È qua Ragazzi Siamo Su un peristoc Adizione a uno stock Dal portarsela a casa Si max partito Alla grande Accidenti Ephysio invece C'era girata Yes Ottimo Non è ancora detto L'ultima parola Infatti Adesso sim Ho misto Brutto errore Brutto errore qua Peccato Per Ephysio Però comunque A buon margine Per Per chiuderla Vediamo Si max riesce A girarla Invece Siamo quasi Ragazzi Potrebbe arrivare Un up smash Da un momento All'altro Drill Up tilt Drill Bravo Tirata Sì Di brutto È abbastanza teso È Oh Devo dire Bell Il comeback Ce l'abbiamo No 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 Non ho parole E niente È andata così È andata così Un uovo Che sapeva volare Ha toccato il sole È abrucciato È abrucciato